Si sono preoccupati solo di non frapprendere la palla che sono i centrali, ha toccato con la coscia, non con l'interno via del sinistro, da pochi passi non poteva mettere il palone dentro, anche con la coscia, non aveva... Non neanche quel ginocchio, non neanche quel ginocchio con la coscia sopra.